C'è bisogno secondo lei di fare attenzione a un'altra forza spesso considerata vicino all'andrangheta e anche molto diffusa nel territorio di Vibo che è la massoneria? C'è bisogno anche che la politica cerchi di essere un po' immune alla massoneria o almeno alla massoneria deviata? Dalla massoneria deviata sicuramente sì, io ho conosciuto massoni di tutto rispetto, persone che hanno fatto dell'onestà e della lealtà la loro essenza di vita, la massoneria deviata è tutta un'altra cosa. Quindi c'è bisogno di fare attenzione oppure aspettiamo che la massoneria in sé abbia gli anticorpi per allontanare determinati soggetti, determinate anche logiche dannose? Ma io credo che non bisogna generalizzare ma è così in ogni ambiente, in ogni mondo associativo perché in ogni associazione c'è la mela marcia e quindi bisogna che la mela marcia sia tolta dal cestino, allontanata dal cestino e questo accade in qualunque ambiente che sia un ambiente associativo ovviamente e la massoneria è chiaro non fa eccezione.